CENERENTOLA Cenerentola non smetteva mai di sorridere e di cantare. Solo i topini le volevano molto bene. Per ognuno Cenerentola trovava un nome e dei vestiti adatti. Un giorno arrivò un messaggio del re che invitava a un ballo in onore del principe tutte le fanciulle del regno. Anche Cenerentola naturalmente voleva andarci, ma la matrigna disse, solo se finisci in tempo le faccende. Così Cenerentola fu costretta a lavorare tutto il giorno, mentre le sorellastre la prendevano in giro. I suoi piccoli amici allora decisero di cucirle un bellissimo abito da sera. Quando Genoveffa e Anastasia videro che era così bella, cominciarono a strillare per la rabbia. La mia sciarpa, gridò una, e questa è la mia collana, urlò l'altra. Le saltarono addosso e strapparono il suo bel vestito in mille pezzi. Cenerentola piangeva tutta sola e triste nel giardino. Quando ecco, in uno splendore luccicante di stelline, le apparve la sua madrina, la fata Smemorina. Bididi, bobidi, boo! recitò la fatina. In men che non si dica, una zucca fu trasformata in una meravigliosa carrozza tirata da quattro cavalli. Poi, con un ultimo tocco di bacchetta magica, l'abito strappato di cenerentola si trasformò nel più bel vestito da sera che si fosse mai visto. Su, su, è ora di andare, disse la fatina. Ma non dimenticarti, piccola, a mezzanotte precisa tutto tornerà come era prima. Il principe ballò solo con cenerentola per tutta la sera. Il re era felice e il granduca Monocolao non riusciva a credere ai suoi occhi. Purtroppo, però, arrivò anche la mezzanotte. Cenerentola fuggì dal palazzo correndo e perse sulle scale una scarpina di cristallo. Il re ordinò a Monocolao di provare la scarpina a tutte le fanciulle del regno, così il granduca arrivò a casa di Cenerentola. I piedoni delle due sorellastre erano troppo grossi per entrare in quella scarpina. Ma quando arrivò il turno di Cenerentola, la matrigna fece inciampare l'aiutante del granduca e la scarpina si ruppe. Cenerentola aveva però conservato la seconda scarpina. La tirò fuori e Monocolao gliela infilò. Era proprio perfetta per il suo piedino. Cenerentola fu subito portata al castello. Poco dopo si celebrarono le nozze tra lei e il principe. I sogni di Cenerentola erano divenuti finalmente realtà. Fine